Per occhio, amici, c'è un corrimonio. Il... Trevino, Thomas va... Oh, vai per... Aiii... 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 Allora, vedevo andare, vedevo venere per me il limone. Sì, vai là. Ah, sì. E io, lì... Vengo a casa. Sì. Allora, che chiediamo? Stiamo da bocci da aruisi. Che stai guardando? Stavo guardando il mio cavaccino, sta andando indietro! Non... Anda! Non è certo. Guarda, non è pronto, non è giusto smertire. Non è certo, è una problematica. Non è niente, è un diago. E allora... Ehi! Sì. Sì. Andando in bagno. Limone. E... Dobbiamo... Aspettare. No, non c'è anche Patrizio? Sì. Giocavo! Cos'è? Scusami, per spaventare. Non sono solo caduto, allora. Non sono solo caduto, allora. Vieni, è in bagno. Come... È in bagno. Ciao. Sì, se ne vediamo. Ciao, io ci rendiamo con le inspiro di qualche modo. E di prese che reggere lo appunto loro. Ciao, al prossimo video! Grazie a tutti.